Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Nina, sono una lavoratrice, faccio la bidella, ho sei figli. E oggi è domenica e mi volevo presentare dicendo che negli anni 80 e 90, anche quando si faceva festa, la cosa primaria che veniva era cucinare ai nostri maritini e oggi con tanta passione ha avuto da mia madre un bel piccione, prenderò e farò il piccione col sugo a mio marito, contento pure perché mangiamo tutti insieme, siamo una grande e bella famiglia, è bellissimo avere la famiglia a tavola la domenica, olive verdi, un po' di salatini e alla prossima puntata. Ciao, mi sono fatto la doccia, mi sono fatto i due piccolini, sono bella, sono Nina, sono semplice e naturale. Via. Sono Mariella, sto portando la macchina, ma fammi chiamare a mio marito. Pronto? Ehi amore, sì, eh, caro amore mio non lo sai che ho fatto oggi, oggi ho fatto una cosa bellissima, lo sai che ho fatto caro? Oggi ho salvato un piccione, sì, quel piccione aveva una zampettina che si era fatto male sicuramente a qualche parte, io l'ho salvato, mentre lo salvavo facevo un video che dicevo che avevo salvato il piccione. Se ti vedi quante persone hanno detto brava, sei una star, sei mondiale, sei bellissima, sei stupenda, hai salvato una vita, hai salvato un uccellino, hai salvato il piccione. Caro, comunque che stavo dicendo, a parte questa cosa qua del piccione? Allora, il bambino stamattina, vedi che l'ho parcheggiato subito da mia madre? Eh sì, perché doveva andare con l'amica, doveva andare a prendere un bel cappettino, lo sai, oggi è domenica, tanto comunque mangiamo a casa di mamma, anzi, a proposito, lo sai mamma che cos'è che ha cucinato oggi? Una cosa che proprio ci piace a noi, piccione ragù, sì, oggi piccione ragù con le orecchiette. Me, cari, a caro maritino mio, alla prossima puntata, questa è Anna e io sono Mariella, le Mirf, anni 80 e 90, anni 2010 e 2020. Un saluto dal colonnello, ciao!